Stai butti, scusa, sei disturbato, scusa Ciao a tutte ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come avete letto sicuramente dal titolo, questo è un 50 cose random di me Per farmi un po' diciamo conoscere Numero 1, faccio danza da 14 anni 2, amo il mondo della moda 3, faccio il liceo artistico ad Arezzo Indirizzo moda e costume teatrale 4, vengo da un paesino della provincia di Siena in Toscana che si chiama Sinaluga 5, sono un po' vanitosa 6, mi piace ricevere complimenti ma anche le critiche perché mi aiutano a crescere 7, amo ascoltare la musica 8, sono fidanzata quasi da un anno 9, mi piace un sacco il mondo del make up e mi piace truccarmi 10, sono effettivamente dipendente da Instagram Infatti tra un po' farò un Instagram tag Se vi interessa commentate qua sotto 11, ho un fratello di 10 anni che si chiama Cristia 12, ho un cane che si chiama Iago 13, mi piace molto andare in discoteca con le mie amiche o con il mio ragazzo 14, ascolto una canzone fino a che non la odio profondamente 15, sono molto organizzativa 15, mi piace pianificare tutto infatti ho un'agenda in cui scrivo qualsiasi cosa 16, amo follemente il colore rosa È un colore che mi piace da quando più o meno sono nata 17, ho qualsiasi cosa di Hello Kitty Tipo quella bajou Il cestino Quella scatola E molte altre cose ancora 18, il mio fiore preferito è la rosa 19, sono molto ansiosa e mi preoccupo per tutto 20, la mia stagione preferita è l'estate e la primavera 21, sono del segno del leone Sono nata il 27 luglio del 1998 a Montepulciano 23, mi piace molto disegnare 24, è da qualche mese che lavoro nell'agenzia dei modelli a Milano 25, mi piace molto il mondo della moda e delle modelle 26, adoro le sfilate di Victoria's Secret 27, mi piace essere fotografata 28, la prima sfilata che ho fatta avevo 3 anni e l'ho fatta per la Danny Rose 29, è da 3 anni che faccio sfilate e concorsi di bellezza Ho vinto molte fasce 30, ho l'armadio pieno di cose Ma quando mi vado a vestire dico sempre che mi manca qualcosa o che non ho niente 31, amo la pizza 32, sarei capace di vivere soltanto di gelato 33, amo follemente la frutta ma il mio frutto preferito è la fragola 34, sono molto severa nel fatto della linea e del benessere 35, ci tengo molto al mio fisico e al benessere interiore 36, odio follemente gli insetti 37, ho la fobia dei ragni Quelli grossi, quelli piccoli che schiaccio con una ciabatta 38, mi reputo una ragazza semplice e non costruita 39, la mia città preferita è Milano 40, sono molto estroversa e difficilmente sono timida 41, sono ossessionata allo shopping Avesse una carta di credito infinita comprerei qualcosa ogni giorno 42, un mio piccolo sogno del cassetto è fare Miss Italia 43, sono molto gelosa delle mie cose Specialmente dei trucchi e delle matite della Faber Caster Che è difficilmente presto a qualcuno È quasi impossibile 44, sono ossessionata dai fiori Ogni fiori che ho vinto Sfilate, concorsi e cose così Ce l'ho tutte nell'armadio, sopra 45, adoro i peluche Voi non li vedete ma c'è una mensola lassù Che è stra piena di peluche 46, mi stufo dopo un po' delle cose O degli oggetti o dei vestiti Sì 47, quando devo andare a comprare un oggetto Una scatolina o qualcosa che mi serve Guardo sempre se c'è prima rosa 48, sono molto competitiva Specialmente nello sport o in qualsiasi cosa 49, sono maniaca dell'ordine E ogni tanto svuoto l'arvalio e lo rimetto in ordine 50, sono molto depeterminata Se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su Iscrivetevi al mio canale E al prossimo video Ciao 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 Ciao